E' un telecomando, e spazzai bene quel tocco, il radice è su YouTube, è tutti, tutti Questa è la carta promo, orrenda, però questa è molto carina, mi piace tanto tra l'altro Mi piace proprio l'artwork, a parte il fatto del Cosmolo, mi piace Shibuzo, vabbè, in generale mi piace tantissimo Questa versione qua, Cosmolo, di da solo, ancora più dignità Sì, Pumolo, l'ho visto, era dalla quinta gen che non faceva niente, Turner Posso dire la verità, però, mi piace solo Duskull, Duskull è proprio un chicco, gli altri si poteva far meglio, secondo me Però, vabbè, ci sta Allora Allora, secondo te ne è piaciuto se sta calando meglio Bandai con Digimon o The Pokemon Company? Ma, tra tutte e due, io do molta importanza al pull rate, quindi Dall'ultimo box che abbiamo aperto di Digimon, che tra l'altro la stanno sbustando E hanno visto che c'è anche delle altre carte in più super segrete nei box Digimon BT16 Monocromatiche, assurde, e sarà devastante, secondo me A livello di artwork, non lo so, a me piace anche molto l'artworkino così piccoletto Però, purtroppo i pull rate diventano sempre più inesistenti in Pokemon Qua è bello sto Magical, cazzo Questo è veramente figo Minchia, bello Non credevo, non credo di averlo mai visto sto Magical La Tropical l'hai trovata a Giappo? Eh certo, esiste solo Giappo la prima Bello anche questo Magnemite Sai che forse è lo stesso? Sì, minchia Si vede, fa tutte le prospettive dal basso matte Stupendo Discorso Pokemon, ragazzi, che C'ha sempre un vantaggio rispetto agli altri TCG È Pokemon, cioè il brand funziona troppo meglio Uh, badana che schifo No, questa è proprio brutta 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 Con le Mega nel nuovo TCG secondo me si inventa una nuova rarità, un nuovo layout Una cosa del genere Ma niente, ragazzi Mi fa veramente Ah, paradosso temporale questo Mi fa veramente specie sentire le cazzate Cioè le cazzate Le cazzate che non si deve collezionare a caso Bisogna collezionare i pezzi grossi O fare investimenti che poi tornano a lungo termine Cioè proprio L'ho già risposto anche l'altra volta Però mi sto proprio annoiando Mi sto proprio annoiando Brutto Bello questo Terreno fertile Per tantissimi nuovi disegnatori incredibili Io avrei fatto un passo indietro L'avrei fatto in tare per intero Però vabbè Tagliateli Le orecchie E via Ok Tutto Queste reverse Sono poco incisive Non si vede quasi L'olografia Carino questo Oddio, bella Bello Sto in glu Peccato Sto l'olografia Ma non è bruttissima Peccato Che abbiano scelto Il Cosmolo per le promo Perché gli avrebbe dato Un altro valore Alle rare Secondo me Però vabbè Pace No no Alec Sono andati Dei miei amici collezionisti In Giappone L'hanno trovato Mobamba Mobamba Bambino Ti chiami Una persona media 1000 euro Al mese Meglio risparmiare Per un vecchio set Con una logica O a caso Scusami Allora Io lo dico sempre ragazzi Se volete collezionare Avete molte possibilità Ok Questa lezione Ve la do gratis La prossima Vi dovete iscrivere Allo mio corso Però eh Il mio corso Investimenti carte Ora vi dico Aspre Finisco pacchetti E poi vi do dei consigli Nozi Questa è stupenda Vabbè È sempre solito Comiglia Via su Ma che follia Ecco Questo mi permette Di fare un discorso Ma lo facciamo dopo Boh sto Grimer Stranissimo Anche un po' fuori Dal canone Secondo me Del suo design originale Ok Bruttissimo Sto dritto Trovius Ah ma non ho trovato Un cazzo Mi sa Eh no Boh questo set No eh Cioè nel senso Questo The Den è molto bellino Bene robe con le città dietro Così alla La Gotham City Mi piace anche sto La più bella è farmaci Troppo bella L'ultimo Paradosso temporale Poi vi dico Vi dico un attimo Vi ridò dei consigli Non ci sono tagliate male Nel pacchetto? No Purtroppo no Non mi hai mai trovato No forse una volta Apri un pacchetto Di terza genere E ci trovai un Ninjask Sì Con Gli angoli Appuntiti Non avevano stondato Gli angoli Bellissimo Sto joltic Ma l'avevo già commentato Mi aveva stupito tantissimo Lo stile pittorico Ho questo orse Micidiale Mi ricorda tantissimo Una mappa Di prima gen Mi ricorda Canto Chiaramente E' una miscattina Sicca rucce Questo bellino Yukiko Baba Certo Sembrano infinite Queste orecchie Tra l'altro Sembra che Aprino un barco Spazio temporale E la madonna Che troppo Per questa merda Di design Bellissima Questa stupenda Povero Da Blade Troppo Troppo Bisprattato Io ti amo Amo tutta la tua linea evolutiva Ah lo Zubat Che fa l'ultrasonar Da I super solo Dalla shell E chi Ha trovato un cazzo Con questa roba Questa collezione Ecco immaginate un bimbo E spende 40 euro Per questa roba E questo è il plurate Che trova dentro E' contento Mi sa Anche con i suoi amici Fa bella figura Vabbè Comunque A parte questo Questa è la più bella Mi permetto di darvi dei consigli Su come collezionare delle carte Partendo dal presupposto Che questa frase È già un paradosso Perché Vi do un consiglio Su come collezionare È una frase Egorista Il collezionismo Si vive Come si vuole Il collezionismo Si vive In maniera Personale In base Ai nostri gusti Alle nostre Possibilità Quindi al denaro Che possediamo E in base A quello No basta Due regole In base A nostre possibilità E in base A quello che ci piace Premesso questo I miei consigli Su collezionare Carte pokemon È Dato che Ci sono Sempre Meno possibilità Di trovare Carte Rare Di valore E dato che A parte Rarissime eccezioni Negli ultimi tempi Negli ultimi mesi Le espansioni pokemon Non nascondono Quelle bombe atomiche A cui Pokemon company Ci aveva abituato Magari l'anno scorso Dugia Anche Il banalissimo Magical Alternative Art Il Ghiratina Insomma Quella roba lì Quello che vi consiglio Di fare è Se volete Comprare un box Se volete Comprare dei pacchetti Per divertirvi Con gli amici Fatelo E collezionate Le carte Che vi piacciono Di più Non quelle rare Se sono rare Ok Meglio Però Carte come queste Sono carte preziose Perché Veramente narrano Una storia E hanno Un valore artistico Importante Volete Rendere la vostra collezione Più difficile a completare Prendete le reverse Vi fate un bell'album Di reverse Per chi non sapesse Cosa sono le reverse In ogni pacchetto Ci sono carte Così Con l'olografia Sul layout E Inasprite La difficoltà Nel collezionare Questa tipologia Di carte Vi piace una linea evolutiva O una tipologia Di pokemon Vi facciano i pokemon Di tipo elettro Collezionate Tutti i pokemon Di tipo elettro Vi piace l'artista Comiglia Che è bravissimo Cercate dalle origini Di pokemon In poi Così attingete anche Al vintage Quello che ha fatto Comiglia E lo comprate Comiglia ha fatto Anche carte importanti Ha fatto carte Che costano dei soldi Partite da quelle Più comuni Non comuni E poi andate a caccia Delle rarità Di Comiglia Tanto vi do Un altro consiglio Su Serebi Se mettete su google Serebi Con la s E due i E mettete L'artista L'artista Che vi piace di più Vi forniscono Una lista Completa Di tutte le carte Che quell'artista Ha realizzato E ve le segnate Vi stampate la lista Ve la mettete Sul cellulare Fate quello che cazzo vi pare E andate per le fiere Che le hanno sempre Queste carte Le tengono lì A fare muffa E vi divertite Vi piacciono tutti i pikachu Pikachu è una collezione Praticamente infinita E difficilissima Da completare Con prezzi Veramente Diversissimi Tra loro Avete carte da 30 centesimi E carte da 10.000 euro Volete fare una Collezione Che ha un misto Tra divertimento Semplicità E grossa difficoltà Collezione di pikachu Perfetta O un altro pokemon Popolare Tipo Charmander Charizard è già più difficile Lo sconsiglio Però Ok Altra cosa Volete collezionare Per divertirvi E non vi interessa Il valore Vi piace il vintage Collezionate Con condizioni miste E soprattutto Non in prima edizione Volete il set base Perfetto Andate nelle fiere Contrattate i prezzi Sbattetevi nel cazzo Delle condizioni Non andate A truffatori Possibilmente E completate Il vostro set Con condizioni Excellent Con collezioni Good Se non vi interessa Magari con dei bei front E dietro con dei graffi Delle robe che vi invalidano Il Nermit Ma che Cazzi Insomma Divertite Poi Volete divertirvi Con cose nuove Digimon Raga Digimon I box Costano ancora poco In un box Avete Un pull rate Basso Però con un box Vi fate Tantissime rare Tantissime lografiche Tantissime Bellissime carte E Eccole qua Qua ci sono le rare Un po' di rare Un po' di super Vi prendete due secret O delle alternative E vi divertite Spacchettate Con gli amici Scambiate Eccetera Fate come cazzo Vi pare C'è di tutto Non vi piace il layout Andate su altro Vi piacciono i pokemon Questa secondo me È la strategia migliore One piece I box Costano tanto Il pull rate È veramente infinitesimale Secondo me A livello artistico Non vale La candela Ma è un mio parere personale Da uno che in questo mondo Ci lavora E che ha fatto E sta facendo Robbe Comunque meritevoli E vi do il mio consiglio Yu-Gi-Oh No Forever Rume No Direi di no Per me Poi volete fare un'altra collezione Di pokemon bella Alternative art Alternative art Costano poco A parte eccezioni E vi divertite tanto One piece è il miglior TCG Non sono per niente d'accordo Eh Assolutamente no Come regole È divertente Ma non è niente di incredibile O innovativo E come Hard Direction Non ci siamo proprio Non ci siamo proprio Ci sono belle carte anche lì È impossibile Non avere belle carte Forse solo Star Wars Al limitad Ce la fa Ma Assolutamente La maggior parte Delle carte Sono spazzatura Quindi c'è proprio Personaggio statico Di merda Così fermo O che tira un calcetto Un pugnetto E basta È sfondo A caso Nave Cielo Terra Veramente la roba Più base Che ci sia No Però Io faccio questo lavoro Da 4 anni Quindi È poco Ancora Per dimostrare il mio valore Ma Qualcosina Ne so Ora Di Hard Direction E di carte Comunque Parte questo E Questa collezione qua È una collezione Che vi dà Un sacco Di soddisfazioni Perché sono Bellissime Illustrazioni Prezzi contenuti Ora lasciate stare la lingua Prezzi Io l'ho fatta in giapponese Perché mi carabella giapponese Prezzi contenuti Avete Pokémon vecchi Avete Pokémon nuovi Avete stili artistici Diversi Avete Tutto E avete anche Qualche difficoltà Perché un conto Sono queste Un conto Ho questo bellissimo Psyduck Un conto Sono carte Un pochino Più Tronzine Ora voglio trovare Il Magikarp Ma non ve lo trovo Scusi Su due piedi Mi sono falciato La bocca Comunque Questo è Un buon consiglio E sono tante Non sono poche Le alternative Yu-Gi-Oh Ho aperto Il box Rarità Lì Non è che mi abbia colpito Poi più di tanto Ho visto che esce Un box Ad agosto Con Vari di stampone Vintage Quello può essere divertente Non lo so Questo Alternative art Ovviamente Se non volete Le ex Se volete Le ex Vi sono soldi Però Vedete voi Cambia tanto Il costo Tra Inglese E giapponese Non lo so Ragazzi A me Di costi Non Non sono un esperto Grazie a tutti